macchina che si muove, si va in partenza, va il numero 4, partiti, stacco della macchina con Isoverde Ligure che vorrebbe scavalcare il numero 1 Leone Mark, poi l'esterno il 5 di Mister Ciachifonte SM, partita bene Mireia con Isoverde Ligure che cerca di passare con calma su Leone Mark, non vuole spendere Mirko Marini e così è al comando, il favorito Isoverde Ligure quando siamo sulla retta opposta alle tribune, adesso si muove dalla retta via il numero 11 Moneirus che va a forzare i tempi, Moneirus va all'attacco di Isoverde Ligure che si lascia sopra avanzare, Moneirus che sta sfilando dopo un 29.6, Moneirus al comando su Isoverde Ligure, poi Leone Mark rimesso dall'esterno il numero 6, l'Ode da WBF seguito dal numero 10 Janos, poi gli altri con Moneirus che fa 15 sulla curva, Leonardo Vastano ha capito insomma che era il caso di venire via perché Isoverde aveva fermato molto e adesso sta prendendo vantaggio dopo i primi 800 metri di gara, c'è 29.6 per il secondo quarto con Moneirus che ha sgranato il gruppo perché Isoverde non va tanto dietro a Moneirus adesso però Mirko Marini ricorre alla frusta per far impegnare il numero 2 di Isoverde Ligure che sta riaccorciando seguito da Leone Mark con Moneirus al comando e Isoverde Ligure che lo segue, cavalli che attaccano l'ultima curva con Moneirus comunque ancora in spinta, 15.2 per questo paletto, Moneirus con 2 di margine da Isoverde Ligure, poi il numero 1 a Leone Mark, all'esterno Janos, Moneirus Isoverde Ligure, adesso Isoverde si riaffaccia su Moneirus dopo una curva in 15, Isoverde Ligure all'attacco